Quello che sta per nascere alle mie spalle è probabilmente il centro sportivo più bello d'Italia perché la nuova casa del Napoli potrebbe davvero nascere qui nell'area di Bagnoli, nel parco dello sport qui a Bagnoli. Sono già partiti i contatti tra i discerpa di Aurelio De Laurentiis, della società sportiva Calcio Napoli e gli uomini di Invitaria. L'ipotesi praticabile del centro sportivo del Napoli a Bagnoli può avere una sua attuabilità. Aurelio De Laurentiis ha voglia di immobiliarizzare il Napoli, vuole creare una vera patrimonializzazione che non è mai avvenuta durante la sua presidenza. C'è il desiderio di avere il centro tecnico del Napoli in un'area così centrale della città che darebbe grandissimo smalto a tutto un complesso che potrebbe vivere di turismo 365 giorni l'anno e di un'attrattiva turistico-sportiva di grandissima rilevanza. C'è però in quest'area un altro progetto che insiste, quello della Federtennis. C'è che ci sono due grandi progetti che si scontrano tra di loro. De Laurentiis vorrebbe dire no ad Afragola. A Bagnoli si giocherà la grande partita di questo segmento di presidenza di Aurelio De Laurentiis.